Ma un costruttore, un commerciante, in concreto che cosa può fare per contrastare questo fenomeno che naturalmente si può tenere sotterraneo ma si fa sempre più visibile? Abbiamo cercato di capirlo parlando direttamente con il prefetto, quindi ora vediamo l'intervista realizzata dal nostro caporedattore Antonio Lupo, quindi un approfondimento di Fabrizia Aralla. Termoli, la città, il comprensorio, aree sempre relativamente tranquille, comunque restie alle infiltrazioni di carattere maleditoso, una forte barriera sociale, sempre l'attività intensa da parte delle forze dell'ordine che prosegue, poi però qualcosa più o meno improvvisamente è cambiata. Cosa? Lo abbiamo chiesto al prefetto di Campobasso, Cappetta. Ma non è che sia cambiata la società termolese, sono aumentati gli interessi della criminalità organizzata, attraverso il traffico di droga, attraverso anche i furti che stanno aumentando in agricoltura con il cosiddetto cavallo di ritorno, attraverso gli appalti pubblici e adesso avremo anche la realizzazione della grande opera del raddoppio della lesina Termoli che convoglierà ingentissime risorse pubbliche. Detto dell'attività di carattere istituzionale e di quella delle forze dell'ordine naturalmente, cosa possono fare in concreto i cittadini e le categorie economiche per tutelarsi e per difendersi? Vogliamo incontrare le associazioni perché possano sollecitare i propri associati a segnalare tutto ciò che possa essere sospetto anche in forma anonima, di segnalare tutto ciò che non va per aiutare, per coadiuvare le forze di polizia che stanno approfondendo il massimo sforzo.